In questo numero del Salus Tg, sprecati 20 miliardi di euro l'anno da esperti ricetta per salvare il servizio sanitario nazionale. Cercasi pediatra per struttura in Sierra Leone. Risparmi reinvestiti nell'SSN, il ministro Lorenzin soddisfatta dalla conferma di Renzi. Nessuno tocchi la sanità pubblica. È la presa di posizione che si è elevata a Bologna dalla nona conferenza nazionale Gimbe. Sotto i riflettori, la più grande conquista sociale dei cittadini italiani. Un servizio sanitario pubblico, eco e universalistico, da difendere e garantire alle future generazioni, sottolinea la Fondazione Gimbe, che durante la conferenza ha presentato il rapporto sull'SSN. A parte i tagli alla sanità, la Fondazione ha evidenziato che almeno 20 miliardi di euro sono sprecati ogni anno in maniera intollerabile. e che numerosi problemi dell'SSN prescindono dalla quantità di risorse a disposizione. Per salvare il servizio sanitario nazionale non servono riforme, ma azioni mirate e innovazioni di rottura che richiedono volontà politica, un'adeguata riprogrammazione sanitaria basata sulle conoscenze, un management rigenerato, l'impegno di tutti i professionisti sanitari e la riduzione delle aspettative dei cittadini, afferma il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta. Medici con l'Africa QAM cerca uno specialista in pediatria da inserire in un progetto in Sierra Leone. La richiesta è pubblicata sul sito web dell'organizzazione non governativa, nella sezione Posizioni Aperte. La durata del progetto è di sette mesi, a partire da giugno-luio 2014. Obiettivi? Rendere operativo con servizi di qualità il complesso funzionale di maternità, aiutare nella gestione di tutti i servizi ospedalieri e garantire un miglioramento delle capacità del personale locale. Confermato da Matteo Renzi, i soldi risparmiati con la spending review in sanità saranno reinvestiti nel servizio sanitario, come chiedevo, e non altrove, soddisfatta. Lo scrive il ministro della Salute Beatrice Lorenzin su Twitter.